ciao e giovane a tutti ragazzi sono andrei 18bit e in questo video ci sarà una nuova giornazione ma oltre questo siamo con un grande ospite un mio compagno di fortnite è uscita questa nuova modalità che si chiama fuga bisogna aprire un taglietto io direi di aspettare per vedere dalle scenostate più scendere in un posto vicino ok a per l'edgett Oh, una terra 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 Oh, una terra